L'ANAS ha rivisto il progetto esecutivo dell'otto mancante della Sassari Alghero alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime, pressing della parlamentare algherese Deiana sul commissario Solinas. Consiglio quasi unanime sulla via libera al piano particolareggiato del centro di Alghero e Fertilia, soddisfazione di Conoci e Piras, il centro-sinistra attacca l'assessore. C'è anche Ercomi nel cartellone di eventi estivi ad Alghero, ieri l'annuncio ufficiale appuntamento a Maria Pia il 20 agosto. Un saluto a tutti voi e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale che quest'oggi apriamo parlando del completamento della quattro corsie Sassari Alghero. ANAS ha dovuto rivedere il progetto esecutivo ma ora deve essere il commissario straordinario, il presidente della regione Solinas a dare le via libera. In quest'ora c'è il pressing della deputata algherese Paola Deiana. A causa del caro prezzi anche la corsa verso il completamento della quattro corsie Sassari Alghero ha subito un rallentamento. Lo fa sapere la deputata del Movimento 5 Stelle Paola Deiana che spiega come il CDA dell'ANAS si sia nuovamente riunito per approvare il nuovo progetto esecutivo modificato alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Da fonti ministeriali ho appreso che il documento è stato inviato da ANAS lo scorso 22 febbraio al presidente Solinas in qualità di commissario straordinario per le opere pubbliche della Sardegna che però a oggi non ha ancora espresso il suo benestare rispetto all'aumento dell'importo previsto per il completamento dell'opera, fa sapere la Deiana. Non vorrei che fosse proprio il commissario per il quale mi ero espressa in termini favorevoli alla sua nomina nell'ottica di assicurare celerità alle procedure a rallentare i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura. La parlamentare algherese tiene a precisare che si tratta di un'opera necessaria e attesa ormai da troppi anni che negli ultimi due ha avuto una chiara accelerazione. Da quando mi sono insediata in Parlamento ho promesso ai cittadini che mi sarei impegnata a far sentire le loro esigenze e a dare risposte concrete. Ho sollecitato e seguito l'iter per sbloccare la situazione, messo al riparo i finanziamenti e affrontato con decisione questo cammino lungo e travagliato, dice. La svolta in particolare era arrivata nel dicembre scorso con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ANAS del progetto esecutivo, progetto che appunto è stato rivisto dall'ANAS stessa per via dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Recupero, riqualificazione e conservazione che si armonizzano con sviluppo, miglioramento della qualità della vita e interventi di ricostruzione di aree degradate. Il piano particolareggiato del centro di antica prima formazione di Alghero e Fertilia si configura così dopo la due giorni del Consiglio Comunale che ha ottimizzato lo strumento nella sua fase di predisposizione in adeguamento al piano paesaggistico regionale. Ben 56 le osservazioni pervenute dai cittadini grazie alla riapertura dei termini voluta dall'amministrazione dopo una prima precedente adozione. Prosegue la programmazione, il miglioramento degli strumenti urbanistici frutto della concertazione pubblica, la risposta dei cittadini è stata molto importante per migliorare il quadro di regole intese in modo non solo conservativo, commenta il sindaco Mario Conoci che ha sottolineato quell'impegno posto dal presidente del Consiglio Comunale L.L. Salvatore che dice Conoci ha condotto in porto un atto amministrativo così complesso che ha comportato tanti interventi e tante votazioni dell'Aula al quale hanno fornito un contributo positivo sia la maggioranza che l'opposizione in un quadro di collaborazione che ho molto apprezzato, indispensabile quando si tratta di importanti strumenti di programmazione. Ringrazio anche il servizio urbanistica che ha lavorato con grande capacità e la massima celerità possibile. Ieri pomeriggio dunque il Consiglio si è chiusa alla seconda delle due sedute dedicate all'esame delle osservazioni al piano. La prima dedicata al centro di Alghero, la seconda a Fertilia. Voto unanime del Consiglio con 20 voti favorevoli di maggioranza e opposizione e l'ascensione delle due esponenti del Movimento 5 Stelle. Ora l'elaborato dovrà attendere i tempi di legge previsti per lo che da parte della Regione il servizio tutela del paesaggio per essere operativo. Lo strumento urbanistico di dettaglio contiene precise aperture all'utilizzo del patrimonio storico attraverso interventi di recupero connotati ad alta qualità urbana e finalizzati al mantenimento delle funzioni residenziali. Previsti nel piano i recuperi dei valori architettonici e ambientali con opportunità di ricostruzione di nuovi corpi di fabbrica in luogo di interventi recenti incompatibili con il carattere originario dei centri storici. Un altro tassello importante nel percorso di pianificazione urbanistica con la migliore delle risposte che ci attendevamo con la decisione di riaprire i termini delle osservazioni. Abbiamo voluto attribuire maggiore pubblicità, la più ampia partecipazione possibile a queste importanti attività di pianificazione del territorio così come faremo per tutte le altre in itinere, commenta l'assessore all'urbanistica Emiliano Piras. La maggior parte delle osservazioni discusse dall'assemblea civica sono state giudicate coerenti con la filosofia del piano e del PPR. L'iter si trasferisce ora in regione prima di rientrare in consiglio per l'adozione. Soddisfazione è stata espressa anche dal centro-sinistra che non ha lesinato però critiche né confronti dell'assessore. Il piano particolareggiato del centro di antica formazione di Alghero e Fertilia costituisce un tassello importante del lavoro pianificatorio della scorsa amministrazione approvato con ritardo di oltre tre anni nella consigliatura Conoci con un altro record negativo per l'assessore Piras aver fatto scadere i termini delle norme di salvaguardia hanno attaccato i consiglieri di Peralghero, Futuro Comune, PD e Sinistra in Comune. Esprimiamo profonda preoccupazione per oculistica di Alghero. Il gruppo consigliare di Forza Italia interviene sulla situazione in cui versa oculistica ubicata ad oltre un decennio presso l'ospedale Marino che spiegano gli azzurri in forza di un provvedimento dell'azienda ospedaliere universitaria di Sassari dovrebbe letteralmente svuotare i locali del primo piano della struttura dalle aprecature oculistiche. Una vera e propria caporetto della gloriosa oculistica algherese che già oggi è costretta a lavorare tra mille difficoltà in quattro locali inadeguati riducendosi a struttura poliambulatoriale senza poter effettuare interventi chirurgici da qualche settimana. Così lancia l'allarme il gruppo di Forza Italia. Secondo gli esponenti politici azzurri si tratta di una situazione paradossale anche perché allorché l'ATS ha dato la struttura ospedaliera e ha incomodato all'azienda ospedaliere universitaria era stato garantito l'uso degli spazi a favore di radiologia oculistica e farmacia territoriale fino a che non fossero state reperite strutture adeguate di proprietà ATS. Ora, secondo Forza Italia, si rischia che l'oculistica non possa più eseguire prestazioni, visite ed esami diagnostici su pazienti che presentano gravi rischi di cecità e dare risposte terapeutiche adeguate alle disabilità visive. I ritardi nelle prestazioni diagnostiche, nel trattamento delle patologie oculistiche, in particolare delle maculopatie che volvono rapidamente verso la cecità assoluta e definitiva, nonché di tutte le altre patologie oculari acute che minano l'autosufficienza della persona, abbassano in modo esponenziale la qualità della vita nel territorio algherese. Occorre intervenire con urgenza per consentire ai medici del servizio di continuare a garantire le prestazioni anche come estrema razio operando in altri presidi vicini. Chiudono gli azzurri algheresi. Cambiamo argomento. Gli esiti delle indagini condotte sulla matrice acqua non hanno evidenziato in relazione ai prelievi eseguiti elementi di criticità. Così si esprime l'ARPAS sugli accertamenti effettuati il 24 febbraio, il 9 e il 23 marzo scorsi presso lo stagno del Calic al fine di acquisire elementi per la valutazione della segnalazione fatta in merito alla presenza di alghe invadenti. L'argomento è stato all'ordine del giorno della quinta commissione consigliare il 15 marzo scorso con la presenza delle associazioni ambientaliste del Parco di Porto Conte e con il videocollegamento della deputata Paola Dejana. La presenza dell'alga invadente è stata l'occasione per elencare tutte le criticità che pesano sulla laguna ma anche l'occasione per proporre anche possibili soluzioni. L'esito confortante delle analisi è accolto con piacere dal presidente della quinta commissione Christian Mulas che esprime soddisfazione per il risponso favorevole dei prelievi. L'assessore all'ambiente Andrea Monti si rileva che sono frequenti fenomeni che, seppur apparentemente allarmanti, grazie al lavoro continuo in questo caso dell'ARPAS ci restituiscono dati confortanti da questo punto di vista. Ciò non toglie che sul Calic vi sia da tenere altissima l'attenzione, così come si sta facendo anche grazie ad alcune progettualità. Tra gli interventi mirati infatti c'è quello finalizzato all'ottimizzazione del processo depurativo dell'impianto di Santa Maria La Palma. Un trattamento terziario di affinamento delle acque reflue per il quale sono disponibili circa 500 mila euro con la copertura finanziaria della programmazione territoriale 2014-2020 e della rete metropolitana del Nord Sardegna. L'attuazione del progetto è uno dei riscontri del programma comunitario Retralax, rete trasportaliera delle lagune e degli stanni, che prevede interventi per la riqualificazione ambientale nell'ambito del bacino idrografico della laguna del Calic. Il comune di Alghero è promotore e capofila del programma sottoscritto ad Alghero, il primo approvato in Sardegna, che utilizzerà finanziamenti comunitarie del progetto che mette insieme 43 tra amministrazioni locali, enti territoriali, associazioni, imprese per la riqualificazione del territorio sulla base di un programma condiviso che consente di programmare interventi coordinati. Un incontro urgente in Regione per seguire la strada dei fondi da dedicare ai ristori per i pescatori. L'assessore all'ambiente Andrea Monti si raccoglie l'invito chiesto in Consiglio Comunale dalla consigliera Apulina, richiesta al Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca. Piena disponibilità affinché i commissari Mulas e Apulina partecipino insieme al sottoscritto o alla collega preposta, un rappresentante dei pescatori insieme al direttore del parco Mariano Mariani, ad un incontro urgente da chiedere all'assessora Gabriella Murgia e ai tecnici regionali, questo al fine di fornire dettagli sull'ipotesi proposta dalla Commissione e verificarne la fattibilità. Così l'assessore Andrea Monti schiaccoglie l'invito pervenuto nell'ultimo Consiglio Comunale dalla consigliera Monica Apulina. Il delegato della Giunta Conoci risponde alla richiesta senza per questo interferire su altri settori dell'amministrazione sulla proposta di verificare presso gli uffici regionali la disponibilità di fondi in Regione da dedicare ad eventuali ristori e compensazioni a favore dei pescatori algheresi che risulterebbero danneggiati da una riduzione della pesca con nasse in area marina protetta. Tali fondi, precisa Monti, sarebbero da ricercare così come ipotizzato dall'ultima Commissione Consigliere Congiunta Ambiente e Sviluppo Economico tenutasi presso la sede del parco, tra quelli regionali originariamente destinati al ristoro del fermo della pesca del riccio che ha poi ottenuto un rinvio ma che dal 15 del mese di aprile sarà ferma per i prossimi tre anni, fatti salvi ulteriori ripensamenti. Non solo, aggiunge Monti, si ritiene inoltre utile chiedere con forza che l'argomento in questione venga posto come primo punto urgente da discutere presso l'organo regionale massimo in materia, ossia il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca. Per l'assessore all'ambiente sarà utile affrontando l'argomento con lo stesso comitato prendere spunto anche da altre realtà e chiedere una verifica reale dello stato di sofferenza della specie del polpo, maggior bersaglio di pesca con le nasse, quale dato di partenza imprescindibile per qualsiasi misura gestionale da mettere in atto a 360 gradi. Vi è poi la questione del rincaro del carburante. A tal proposito il decreto legge del 21 marzo, il numero 21 di quest'anno, approvato dal Governo, allo scopo di contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi emersa con la guerra in Ucraina. Tra i provvedimenti vi è quello del credito d'imposta per l'acquisto del carburante per la pesca. Alle imprese esercenti, attività agricole della pesca è riconosciuto infatti un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre del 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è prevista l'accedibilità dello stesso. Poco, conclude Montis, ma un primo strumento a disposizione dei nostri pescatori. Credo che questa sia la strada e lo spirito giusto, quantomeno per provare a trovare soluzioni. E procede l'attività di controllo da parte dei militari della Guardia Costiera di Alghero sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Olbia. Nella giornata di lunedì l'autorità marittima della Riviera del Corallo ha condotto un'operazione volta a contrastare l'attività di prelievo illecito di esemplari di riccio di mare per mano di pescatori non autorizzati. I controlli al termine di un lungo periodo di appostamento hanno permesso il sequestro di circa 700 esemplari del pregiato Ichinoderma e di elevare le previste sanzioni amministrative a carico di quattro distinti trasgressori per un ammontare pari a 4.000 euro. Tutto il prodotto ittico rivenuto ancora allo stato vitale è stato immediatamente restituito al mare. Il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Alghero, tenente di vascello Giuseppe Tomai, sottolinea che l'attività di controllo della fascia terrestre marittima di giurisdizione continuerà anche nei giorni futuri in concomitanza con il delicato periodo delle festività pasquali. Ci fermiamo ora per una pausa pubblicitaria tra poco con la seconda parte. In apertura di seconda parte uno sguardo alla situazione Covid con 10 decessi e 2.951 ulteriori casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 16.937 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 17%. In aumento i ricoveri sia in terapia intensiva che ora sono 23,2 in più, sia in area medica 3 in più e totale salito a 325. Sono invece 30.541 le persone attualmente in isolamento domiciliare. E sarà un'estate all'insegna della musica, dei concerti e degli eventi da vivere all'aperto, quella che si vivrà sulla riviera del corallo. Grazie alla collaborazione fra Shining Production, le Ragazze Terribili e Fondazione Alghero tornano i grandi eventi nel rinnovato anfiteatro di Maria Pia. Il 20 agosto Arcomi, fra gli artisti che più hanno lasciato il segno nella produzione musicale italiana di questi ultimi anni, va ad aggiungersi i nomi già svelati nei giorni scorsi, che vedranno protagonisti Tananai e Villabanks, Ernia, all'interno della 24esima edizione del Festival Ababula e l'attesissima Madame. Con la conferma di questo nuovo appuntamento si delineano le prime forme di quello che a tutti gli effetti sarà un vero e proprio festival che avrà luogo ad Alghero. Attesi nei prossimi giorni gli annunci di ulteriori nomi che andranno ad arricchire il cartellone dell'Alghè Summer Festival che si prospetta come una delle cremes musicali più interessanti dell'estate 2022. Sarà un'estate davvero ricchissima di grandi eventi musicali con gli artisti più popolari e spettacolari che si alterneranno sul palcoscenico della riviera del corallo, dice il presidente della Fondazione Alghero Andrea De Lugo. Un gradito ritorno dopo il sold out dell'anno scorso, aggiunge riferendosi a Arcomi con uno spettacolo finalmente visibile in piedi senza le limitazioni che avevano caratterizzato il concerto del 2021. E da oggi invece, mercoledì 30 marzo, inizia la collaborazione tra l'Associazione Culturale Cabirol e CatalanTV. Sarà incentrata su contenuti in Algherese per la programmazione di una serie di appuntamenti rivolti alla promozione della lingua, attività per la quale l'Associazione basa la propria attività da circa 15 anni. Gli appuntamenti andranno in onda mercoledì alle 21.15 e in replica la domenica pomeriggio. Oggi andranno dalla terza edizione andata in scena il 23 ottobre del lontano 2010 del premio Pino Piras, la fortunata manifestazione organizzata con il prezioso contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, che ha determinato la nascita di una nuova schiera di autori algheresi che hanno abbracciato la composizione in catalano di Alghero. Alla serata del Civico, presentata da Antonio Luvinetti, hanno partecipato Franca Masu con Salvatore Maltana, Roger Soler, Mark Harris, la premiata dell'edizione per il mio brano algherese, Jasmine Bradi e poi l'ospite Piero Sidoti, che ha pubblicato in quell'anno l'album Gente in attesa, con gli arrangiamenti di Antonio Marangolo e le prefazioni di Lucio Dalla e Massimo Cotto, lavoro che gli è valso la targa Tenco 2010. E poi ancora due figure straordinarie della musica popolare algherese, Berto Calareso e Pietro Ledda, a raccontare con parole, musica, pezzi di storia di Alghero e di quell'angolo di muraglia dei cosiddetti Tupamaros. Premio alla carriera per Angelo Maresca, altra figura della canzone algherese a cui l'organizzazione ha voluto attribuire un riconoscimento, è a Enrico Valsecchi, storico e giornalista. Protagonisti della serata anche Zaira Zingone, giovane voce che si esibita con la musica di Graziano Solinas. Mario Mulas con il maestro Mauro Uselli, il premio conformato sulla nuova attitudine delle nuove rassegne per la ricerca di nuovi autori, ha costituito un esempio di rara qualità artistica che ha saputo coniugare la tradizione e tracciare un nuovo solco dei giovani autori. Organizzato in collaborazione con la cantante Claudia Crabuzza, sul palco del Pino Piras si sono approcciati alla composizione e in lingua Davide Casu, Zaira Zingone, Jasmine Bradi, la stessa Claudia Crabuzza che ha intrapreso un lungo percorso che l'ha portata a vincere la prestigiosa Targa Tenco con il miglior armone in lingua nel 2016, Comun Sul Dat. Musica dal vivo, video, testimonianze, la ricetta del premio ha ottenuto consensi a scena aperta, soprattutto nelle parti in cui vengono proposti gli aspetti dell'identità algherese. Spettacolo di assoluta qualità, il premio Pino Piras ha dimostrato di poter rappresentare un evento eccezionale per la programmazione culturale algherese. Una miscela di grandi nomi, artisti internazionali e personaggi della musica popolare, sotto il segno del ricordo dedicato al grande artista Pino Piras. La programmazione continua ogni mercoledì con altre edizioni del premio, con le riproposizioni delle tre edizioni della nostra canzone, con la commedia Paese di Alagrias, con altre documentazioni riguardanti la canzone algherese. In chiusura di telegiornale Lo Sport, stasera al Palamanchia alle 19.30, la Costruzioni Valentino SRL Alghero affronta l'Astro Cagliari nell'ultima partita a Casalinga della Serie B femminile. L'eventuale Bella a Cagliari invece si disputerà sabato 2 aprile. Stiamo parlando ovviamente dei play-out. Si chiude un anno difficile, ma straordinariamente ricco di spunti per diversi motivi, uno dei quali è la partecipazione a un campionato così importante come la Serie B femminile, che coincide con i 35 anni della fondazione della Pallacanestro Alghero 1986, con uno sponsor come la Costruzioni Valentino SRL Alghero, che ha sostenuto il progetto e lo sosterrà anche in futuro. Si legge in una nota della società, che ha ringraziato sia lo sponsor, ma ovviamente anche le ragazze e il coach. Si continua a lavorare con passione, determinazione e competenza anche nei campionati giovanili, dove le squadre under 13 e under 14 femminile, disputeranno le finali regionali anche grazie alla collaborazione con il Basket 90. E il Basket chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Io come sempre vi lascio al meteo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.